Questione di giorni a Giulianova per lo sgombero dell'area dell'ex depuratore dove ormai da diverso tempo si è stabilito al suo interno il gruppo di ragazzi del campetto occupato. La grande area situata nella zona sud della città nel cuore del quartiere annunziata sarà totalmente riqualificata per volontà dell'amministrazione comunale e dentro metà settembre ci dovrà essere la consegna dei lavori alla ditta incaricata, pena la perdita totale del finanziamento, oltre un milione e mezzo di euro da fondi PNRR. Sarà il secondo sgombero in cui sono protagonisti i ragazzi del campetto occupato, il primo circa tre anni fa in pieno centro storico con il campo di Viale dello Splendore. Ora l'idea dell'ente è quella di riqualificare il grande spazio attorno all'ex depuratore, in una zona cresciuta a livello di presenze negli ultimi anni, ma le polemiche ovviamente non mancano perché chi è all'interno non ha intenzione minimamente di lasciare quegli spazi, contando che ci sono al momento cinque unità abitative. Fare un nuovo sgombero vuol dire buttare per arrestare le persone, vuol dire militarizzare un quartiere e vuol dire fare tutto ciò non sapendo cosa si va a creare in quello spazio lì, come anche tutta la città ricorda al vecchio campetto. In questo spazio qui, qui è annunziata, vivono diverse persone, anche persone anziane, sia diciamo che hanno trovato una certa stabilità in roulotte, sia in veri e propri appartamenti che abbiamo ricavato da uno spazio abbandonato. Le minacce di sgombero, perché noi non ce l'aspettiamo, anzi ci auguriamo che non ci sia, vorrà dire soprattutto anche buttare per strada queste persone, oltre che fa scomparire uno spazio sociale che in questa città negli anni credo ha dato tanto e la città infatti sta rispondendo positivamente al nostro appello alla solidarietà perché c'è molta vicina.